Nuove tecnologie per individuare le perdite della rete idrica di Modena. Il gruppo ERA utilizza anche un sistema basato su immagini satellitari. Nel 2015 è stato recuperato oltre un milione e mezzo di litri d'acqua dalle cosiddette rotture occulte. Ce ne parla Lorenzo Maini. Per combattere le perdite nella rete idrica, il gruppo ERA utilizzerà anche il satellite. Una prima sperimentazione è già stata compiuta a Ferrara, dove sono state rilevate oltre 60 rotture occulte. Cioè non visibili dal piano strada perché l'acqua riesce ad infiltrarsi nel terreno. È un sistema di ricerca perdite satellitare. Viene utilizzato una fotografia e un'analisi spettrometrica fatta attraverso un satellite messo in orbita dalla compagnia aeroespaziale. Su questa analisi viene incrociata con la rete acquedottistica e quindi vengono individuate attraverso un algoritmo dei possibili punti dove ci possono essere delle perdite occulte. Il sistema satellitare di rilevazione delle perdite si affianca al tradizionale telecontrollo. A Modena inoltre il sistema è caratterizzato dalla cosiddetta distrettualizzazione della rete. È una tecnologia che va a individuare dei tratti di rete, a porre dei misuratori di portata in questi tratti di rete in modo da poter registrare e avere anche attraverso il nostro sistema di telecontrollo dei comportamenti anomali in termini di consumi. Telecontrollo e satellite permetteranno quindi ulteriori migliorie alla rete acquedottistica. Considerando che noi ogni anno individuiamo circa 450 rotture e quindi ripariamo 450 rotture occulte, questo significa recuperare risorse. In termini concreti circa un milione e mezzo di litri all'anno che recuperiamo andando a individuare queste rotture e queste perdite occulte. Grazie.